La Matrix è europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Il direttore generale del MES, Klaus Regling, ovviamente sconosciuto, ovviamente mai votato e ovviamente tedesco, si presenta sul sito ufficiale del Meccanismo Europeo di Stabilità con una foto nella quale ci racconta che la Grecia è uscita con successo dal programma del MES. In pratica usa la Grecia come il simbolo del più grande successo del Meccanismo Europeo di Stabilità. Proprio come Monti, che ci raccontava invece che la Grecia è il più grande successo dell'euro. Stessa linea, ovviamente. Certo, non possiamo dargli torto se pensiamo a quanti miliardi di euro stavano rischiando di perdere nel 2011 le banche francesi e tedesche per le loro speculazioni in Grecia. Essere riusciti a salvarle con i soldi dei cittadini dati al MES è stato davvero un miracolo, una operazione di grande successo. Poi certo, se invece guardassimo altri dati, come per esempio il tasso di mortalità infantile in Grecia, che ha aumentato del 40% proprio a causa delle misure di austerity imposte anche dal MES, il discorso allora cambierebbe. Ma questi sono dati che al mercato non interessano. Anzi, come diceva lo speculatore George Soros, non è che io possa sentirmi in colpa per le conseguenze sociali delle mie speculazioni. Intanto Pierre Moscovici lascia intendere che coinvolgere il Parlamento in una riflessione più approfondita sulla riforma del MES metterebbe a rischio la stabilità finanziaria in Europa. In pratica conferma il mantra della loro organizzazione di riferimento, ossia la Commissione Trilaterale, dove è scritto nero su bianco che la democrazia non può certo essere sempre applicabile. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.